Ti saluto con la pace del Signore, buon inizio di settimana, oggi lunedì 25 aprile 2022, alleluia Dio è vivente, no non è morto, Dio è vivente, no non è morto, Dio è vivente, no non è morto, lo sento egli è qui, alleluia gloria a Dio. Che bello adorare il Signore, voglio dare gloria a Dio per questa guarigione che ho avuto, sono stato veramente male ma ora sto bene, si vede anche dall'espressione, si vede anche dalla carica che Dio mette nel mio cuore e voglio ringraziare anche te per le preghiere che hai fatto, in tantissimi mi avete scritto, mi avete telefonato, mi avete chiesto, avete pregato, io voglio dare gloria a Dio per ognuno di voi, perché in questo si vede proprio l'amore di Dio, l'interesse che avete avuto per me, grazie con tutto il cuore, veramente sono onorato di aver avuto la vostra attenzione, di aver avuto il vostro sostegno, chi con una parola, chi con un messaggio, Dio ti benedica, alleluia. Questa mattina vogliamo accostarci nuovamente alla parola del Signore che parlerà dritto, dritto ai nostri cuori, amen, dice così il Vangelo di oggi. Dio il Signore disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Questo testo lo puoi trovare nel libro della Genesi capitolo 2, il versetto 18 e il versetto 24. Il titolo di questa meditazione biblica è questo, il matrimonio, un'unione voluta da Dio. Sposarsi significa unirsi, è l'unione ufficiale pubblica riconosciuta da Dio fra un uomo e una donna per la vita sulla terra. In quanto vincolo stabilito da Dio stesso, Gesù dice quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Vangelo di Matteo capitolo 19 verso 6. Nell'ambito del matrimonio Dio ha previsto che un uomo e una donna vivano la sessualità per mezzo della quale, se è la sua volontà, potranno anche godere il privilegio di avere dei figli. Libro della Genesi capitolo 1 versetto 28. L'amore fra gli sposi si realizza in una completa comunione di anima, spirito e corpo. Avere rapporti carnali al di fuori del legame del matrimonio è definito nella Bibbia fornicazione o adulterio, è un peccato. Ci si può domandare come Dio possa volere il nostro bene se pone tale limitazione. Considerando poi che tanti matrimoni anche fra cristiani falliscono, vale la pena di sposarsi? Dio ha creato la prima coppia, uomo e donna, con amore e saggezza, prevedendo ogni cosa per la loro felicità. La Bibbia però non presenta il matrimonio come la chiave per essere felici qualunque sia la nostra condotta, ma indica in quale condizione l'amore fra gli sposi può svilupparsi e arricchirsi. La prima di queste condizioni è riconoscere la caratteristica esclusiva del matrimonio, una coppia formata da uomo e donna, marito e moglie, e la reciproca complementarità che ne deriva ognuno nel rispetto dei propri ruoli, ovviamente. Ricercare la volontà di Dio per vivere la comunione tra coniugi è sempre fonte di benedizione. Vivere in coppia senza sposarsi predispone al disimpegno e lascia aperte vie di fuga per entrambi i partner. Al contrario il matrimonio che Dio approva presuppone un impegno totale per tutta la vita, un amore fedele fondato sull'ubbidienza e sulla sua volontà e sostenuto dalla sua grazia. Perché quando una coppia si sposa e questa coppia formata da uomo e donna mette al centro Dio, questa coppia diventa triplice, una triplice unione ed è impossibile sciogliere questa unione. E in questo ti posso dare la mia testimonianza perché è vero quando mi sono sposato non ero convertito, non conoscevo Gesù, ma quando poi mi sono convertito e quando anche poi Lorena ha dato il suo cuore a Dio abbiamo deciso di fondare il nostro rapporto, il nostro nuovo rapporto, perché era tutto nuovo, su Cristo Gesù. E i consigli che abbiamo trovato straordinari su come affrontare determinate problematiche che ci sono nella coppia, assolutamente, sai dove li abbiamo trovati? Nella Bibbia. E quando a volte facevamo fatica a trovare delle risposte o comunque a trovare una comune, un comune accordo, abbiamo trovato consiglio da uomini di Dio, il mio pastore, il fratello Enzo, il fratello Giovanni, il fratello Mimmo e quant'altri, però con loro in un modo particolare ci hanno dato dei consigli utili per come superare quella determinata circostanza che non stavamo riuscendo a separare. Il risultato? Sono undici anni che siamo convertiti e gloria a Dio ancora oggi ci amiamo più di ieri. I problemi non mancano, te lo garantisco, ci sono dei diverbi, a volte delle liti anche, perché no, io non mi nascondo dal dirlo. Però non passa un giorno che quelle discussioni, quelle situazioni, qualsiasi essi siano, non trovino risposta e pace nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio e nell'umiltà dell'uno verso l'altro. Questo è ciò che ti consiglio di fare, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore anche nell'ambito matrimoniale. Dio ti benedica e ci vediamo domani a Dio piacendo. Pace a te!